Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 della Regione, con 23 voti favorevoli e 11 contrari. Le modifiche al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato a dicembre scorso, prevede variazioni di stanziamenti di entrata e spesa per 920.000 euro nel 2022, 450.000 nel 2023 e 4.500.000 nel 2024. Le modifiche comportano un maggior gettito anno stimato in euro 450.740 per l'anno 2022 e per ciascuna delle annualità 2023-2024. La variazione prevede inoltre alcuni interventi aggiuntivi di spesa, tra cui un contributo alla provincia di Lucca, per garantire la realizzazione del ponte sul fiume Serchio, contributi straordinari all'azienda Asle Toscana Centro e al comune di Palazzuolo sul Segno per la realizzazione di un nuovo presidio socio-sanitario e risorse per interventi di ripristino e messa in sicurezza per una frana nel comune di Buti. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera 900.000 euro, è di 450.000 euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del Governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450.000 euro all'anno che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430.000 euro per il comune di Palazzuolo sul Segno per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250.000 euro sono destinate al comune di Buti e c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinata alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del Governo e della Regione che già ammontava quasi 20 milioni di euro. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale a cui ne seguiranno presto delle altre, destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende. Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia, nell'impostazione e nel contenuto. Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale perché di poco ma qualcosa aumenta e noi siamo preoccupati in prospettiva perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie. Vorremmo avere rassicurazioni a riguardo al più presto anche perché l'adeguamento alle nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana. Anche per oggi non si vola, il Pegasus non riprende a volare e tutto questo per colpa della maggioranza di centro-sinistra. E poi lo voglio dire proprio chiaramente, quando si presentano provvedimenti in materia di natura finanziaria, ecco quei provvedimenti dovrebbero essere con solo norme di natura finanziaria. Invece constatiamo che molte disposizioni non hanno natura finanziaria ma di carattere manutentivo, cioè servono a far sì che possa essere ristabilito l'ordinamento delle situazioni che devono essere cambiate. Questo non ci convince come modo di fare, lo riteniamo poco rispettoso anche nei confronti dei toscani. Quindi nella forma, nella sostanza, anche nella pochezza, proprio questa prima variazione non ci convince che ci ha fatto. Prima variazione di bilancio del 2022 e tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo, forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni, quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia. Arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina, il bilancio della regione toscana arriva in aula e cosa scopriamo? Che le preoccupazioni della regione sono da una parte aumentare le tasse e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici. Siamo allibiti da tutto questo. In realtà non si tratta di un aumento delle tasse, peggio ancora, si tratta dell'aumento dell'aliquota regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno. Si tratta dei soliti 145 mila, 150 mila circa, cittadini toscani che altro non sono che i giovani imprenditori, le partite IVA, le ditte individuali, i baristi, gli storatori, i liberi professionisti, gli avvocati, i commercialisti. Cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi, la regione toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IRPEF, gli aumenta le tasse. E dall'altra parte si va a fare quella che noi abbiamo denominato legge Becattini, cioè quella legge che consente a chi è nominato presidente di una partecipata della regione di potersi accollare anche lo stipendio da amministratore delegato perché magari come presidente percepisce troppo poco. Noi siamo sconcertati dal vedere in questo momento storico le preoccupazioni di chi governa oggi nella regione toscana siano garantire l'aumento dello stipendio dei manager pubblici e mettere di nuovo le mani in tasca a quei 150 mila cittadini toscani che guadagnano tra 50 e 55 mila euro lordi all'anno. A un voto positivo si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse, una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe per noi è un elemento importante, non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali, le previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, questo è positivo nelle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia dove il caro bolletto diventa insostenibile, la riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile. Sostenibile per le famiglie toscane? Questa variazione di bilancio è incomprensibile, innanzitutto siamo a marzo e la regione fa una variazione di bilancio su interventi spot, completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica riteniamo questa decisione veramente fuori luogo e anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. Si tratta purtroppo ancora una volta di una serie di provvedimenti e di misure che vanno a interessare settorialmente alcuni territori, quindi sono interventi isolati, anche in questo caso privi di una sostanziale organicità. Stavolta però ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in Commissione. La prima che è l'aumento della pressione fiscale, è innegabile, benché ci venga passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote, in realtà questa sarà una misura che impatterà e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo Paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura sostengono il PIN nazionale. Ancora una volta si fa una scelta ben precisa. Oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA, che magari fino a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50 mila euro, ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale che magari è regato a una partita IVA, ma avrà una trattenuta del 43% e un'addizionale regionale più alta. Questo è il quadro. Su una misura che comporterà per la regione toscana un aumento di circa 450 mila euro. Su questo avevamo cercato di neutralizzare proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento. Questo non è stato possibile paradossalmente perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate. Tutto questo sarebbe quasi comico se non avessimo oggi in bilancio un'altra misura che è quella che sostanzialmente consente il compenso nelle società partecipate di cumulare le indennità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato laddove è previsto. Capite bene che questo è quasi un paradosso. Dall'altro non si trova un muro contro muro quando si vuole evitare un aumento della pressione fiscale, dall'altro si va a premiare quelli che in qualche maniera sono protetti paradossalmente da quei fondi che coprono le perdite delle società. Società che ricordiamo in grande e molto spesso sono anche state censurate proprio nella loro gestione da parte della Corte dei Conti attraverso dei rilievi puntuali. Il Consiglio regionale ha approvato con 20 voti favorevoli e 14 contrari la proposta di delibera per il bilancio di previsione 2022 di Toscana Promozione Turistica. L'Agenzia svolge attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione diretta di iniziative e la partecipazione a progetti di promozione anche di altri soggetti pubblici, sia a livello nazionale che internazionale. L'Agenzia presenta un bilancio senza particolari punti di criticità. Le risorse economiche per la realizzazione delle attività di promozione e per i costi di funzionamento di Toscana Promozione Turistica per ciascuno degli anni 2022-2023 ammontano a 4.250.000 euro. Via libera maggioranza anche alla proposta di delibera per il bilancio preventivo 2022 dell'Agenzia regionale per l'impiego, illustrata in aula da Mario Puppa del PD, tra le principali funzioni di arti, l'attuazione delle politiche attive del lavoro e lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi per il lavoro. Il Consiglio ha approvato il parere sul bilancio di previsione di Toscana Promozione Turistica che è un'agenzia di fondamentale importanza soprattutto in questo momento di ripartenza perché veniamo da due anni di Covid che hanno messo in ginocchio il nostro sistema turistico. È un bilancio che logicamente è ancora di transizione, che porta 10 milioni in dote appunto per trovare stimoli e progetti per il rilancio di un settore che è fondamentale per tutti noi. Arti è l'agenzia regionale per l'impiego, una genzia che si sta allargando e si sta potenziando soprattutto grazie alla rete diffusa di centri per l'impiego che sono la parte operativa dell'agenzia. In un momento anche questo delicato perché c'è bisogno di ripartire lo facciamo attraverso un bilancio importante che quota oltre 67 milioni di euro e che serviranno attraverso il potenziamento di servizi per le imprese e per i cittadini a rilanciare la nostra Toscana. Toscana Promozione è un ente pagato profumatamente dalla regione toscana che si occupa di promuovere il turismo per quanto la regione toscana. È paragonabile al ministro del petrolio per i paesi arabi perché evidentemente il nostro petrolio è il turismo. Noi abbiamo un giacimento petrolifero non in ogni città, non in ogni comune, ma in ogni borgo, in ogni piazza. Ecco, pensiamo che Toscana Promozione faccia molto male il proprio lavoro, che ci sarebbe da poter avere un intervento molto più efficace, molto più importante. Per questo abbiamo votato convintamente contro a quel bilancio, così come abbiamo votato contro al bilancio dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego, ma soprattutto noi siamo rimasti profondamente delusi dall'assenza di dibattito in aula. Oggi in aula è venuto il bilancio di Toscana Promozione, quindi del Ministero del Petrolio per quanto riguarda la nostra regione e dell'agenzia che si occupa di impiego in un momento in cui il problema più grave che si chiede a un bambino di quinto elementare o a un pensionato è il lavoro. Ecco, non possono passare così in maniera superficiale dal Consiglio regionale senza un dibattito importante, senza una riflessione importante sul ruolo di queste due entità che in questo momento dovrebbero essere due dei pilastri su cui appunto la nostra regione si fonda. Due agenzie regionali molto importanti, abbiamo dato il nostro sostegno per queste che sono delle funzioni fondamentali della regione toscana. La promozione turistica per la nostra regione è una funzione rilevante, quella per eccellenza, la Toscana è la Toscana nel mondo e come tale la nostra agenzia deve essere sostenuta perché nel sostegno a questa iniziativa sta il sostegno alle imprese del settore turistico, sta il sostegno a quei settori che sono fondamentali collegati appunto al turismo, non soltanto delle grandi città ma anche della campagna diffusa e dei centri minori. La Toscana ha bisogno di ripartire in maniera forte con una promozione che ci ricollichi a livello internazionale e come tale il nostro sostegno è arrivato. La stessa cosa va sull'agenzia regionale per l'impiego rispetto a una funzione nuova che va ricoprendo rispetto a dinamiche anche nazionali dove l'occupazione e l'impiego in momento di difficoltà post-covid può diventare ancora di più determinante per ricollocare in termini lavorativi molte persone e soprattutto per sostenere il lavoro in una fase difficile come quella attuale dove la guerra sta producendo anche un problema di carattere occupazionale nel nostro paese. Presentato a Palazzo del Pegaso, il bando della prima edizione della Toscana che fa bene per il conferimento di un premio alla miglior campagna di comunicazione sociale realizzata e lanciata nel 2021. L'iniziativa, promossa dal Corecom in collaborazione con il Centro di Servizi Volontariato Toscano, ha l'obiettivo di dare il giusto riconoscimento a quanti nella regione si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia e originalità. Un'iniziativa bella da un titolo ancora più bello, la Toscana che fa bene, la Toscana è terra di accoglienza e terra di solidarietà, lo sta dimostrando anche in questi giorni, in queste ore con l'accoglienza dei profughi ucraini, la Toscana che fa bene è la Toscana dei nostri professionisti e la sanità che tanto si sono impegnati in questa fase della pandemia, loro ancora una volta grazie. La Toscana che fa bene è quella del volontariato, ringrazio Cesvot per l'impegno, per il lavoro che svolge nel nostro territorio e la Toscana che fa bene è anche quella della comunicazione. Consentitemi di ringraziare Enzo Brogi davvero per il lavoro enorme che sta portando avanti come presidente del Corecom, un lavoro importante anche di sensibilizzazione perché non è scontato premiare con 5.000 euro in questo caso l'azienda e la società che sia privata o pubblica che abbia messo in campo una campagna di sensibilizzazione in questo senso, del senso davvero di cos'è la Toscana quella bella. Cesvot da tanto tempo è impegnato sulla comunicazione sociale, pensate che abbiamo un archivio di 3.378 documenti provenienti da 68 paesi del mondo che ha a disposizione anche delle nostre associazioni, di tutti coloro che vogliono documentarsi su questo e la comunicazione sociale certamente per gli enti del terzo settore è fondamentale perché promuove proprio le azioni che loro fanno sul territorio a favore della popolazione. è la voglia di fermare l'attenzione su chi investe in comunicazione pensando di dare un servizio sociale, cioè di premiare l'etica, premiare le cose buone, le cose fatte bene. Noi abbiamo in testa dei messaggi che negli anni sono stati potentissimi, pensiamo per esempio la Benetton con la sua campagna con Oliviero Toscani contro il razzismo, contro la mafia, oppure le campagne come il cuore si scioglie, oppure ancora fumare fa male, digli di smettere. Ecco, vorremmo che anche in Toscana premiassimo coloro che siano essi naturalmente le associazioni nel terzo settore, infatti con noi abbiamo voluto il CESVOT che le coordine rappresenta benissimo tutte, ma anche gli enti pubblici, le società private, coloro che investano per la campagna sociale. A loro vorremmo aprire questo bando per dare un premio per la migliore comunicazione. Possono partecipare naturalmente tutte le associazioni del volontariato, del terzo settore, naturalmente tutti gli enti pubblici, penso ai comuni, all'associazionismo in genere, ma anche le attività private, coloro che investano però in una campagna che premia le cose fatte bene. Grazie.